Sono tre gli indagati per la morte del piccolo Jed, il neonato di quattro mesi di Barcellona Pozzo di Gotto deceduto nella notte tra venerdì e sabato dopo un doppio ingresso al pronto soccorso di Milazzo e la corsa disperata al policlinico di Messina dopo una caduta accidentale. La procura di Barcellona è iscritto nel registro degli indagati tre sanitari dell'ospedale Fogliani di Milazzo in vista dell'autopsia che si terrà giovedì 20 aprile. Il piccolo è deceduto per una emorragia cerebrale al policlinico di Messina dove è stato operato d'urgenza dopo essere caduto nella sua abitazione a Barcellona Pozzo di Gotto. Il bimbo dopo la caduta era stato portato in un primo tempo all'ospedale di Milazzo ma subito era stato dimesso dopo una consulenza pediatrica in reparto ed è stato rimandato a casa. Il piccolo però stava ancora male e la coppia è tornata al Fogliani dove è stata disposta un attacco che ha convinto i medici a trasferirlo d'urgenza al policlinico messinese. Qui però i tentativi dei sanitari di strapparlo alla morte si sono rivelati inutili. Dopo una risonanza si era riscontrata una emorragia cerebrale per la quale poi GED è stato operato. Purtroppo per il piccolo non c'è stato nulla da fare. I legali della famiglia Giorgio Leotti e Giulio Lima hanno presentato un esposto per capire se ci siano state negligenze nella gestione dei soccorsi e dell'assistenza. I due legali hanno nominato anche il dottore Antonio Messina come medico legale di parte. La coppia dei genitori è ancora sotto shock e sta valutando se depositare un dettagliato esposto. Intanto ha ricostruito l'evento con i legali e invoca chiarezza dal lavoro della magistratura. I genitori vogliono capire se ciò che è accaduto fosse inevitabile o se dopo l'incidente domestico il piccolo potesse essere ancora salvato.